Si vede? Si perfetto! Bella ragazzi, qui did oggi non è sabato e questo non è neanche un vero vlog, ma vi devo dire una cosa importante, ovvero questo sarà un video molto molto breve solo per dirvi questa cosa e basta, poi vi tornate tranquilli a ciò che stavate facendo. La cosa che voglio dire è che domani, quindi martedì 27, se non dico cazzate sì, ci sarà la live da 6 ore ragazzi, quindi la live partirà dalle 17 e finirà alle 23, ok ragazzi? Quindi sapete anche gli orari, per quanto riguarda la cena io cenerò qua in live con voi come avevamo fatto nella live da 6 ore che avevo fatto mesi e mesi e mesi fa. E niente ragazzi, quindi questa live fra Natale e Capodanno, un po' per augurarvi ancora Buon Natale, un po' per festeggiare il Natale, far qualcosa di particolare, un po' per augurarvi anche quasi il nuovo anno, quindi sarà dalle 5 alle 11, quindi dalle 17 alle 23, sarà 6 ore esatte e niente ragazzi, sappiatelo, quindi ora lo sapete, non so perché ma mi ero dimenticato assolutamente di dirlo nel vlog quello che è uscito il 25, Mi sono, cioè ieri, mi sono completamente dimenticato di dirla ma eccomi qua, l'ho detto, per quanto riguarda i giochi che giocheremo saranno vari, molto vari, sarà dai giochi veri e propri giochi, ai giochi indie, a giochi invece che giocherò insieme a voi, quindi giochi dove sarà la chat a dover mettere degli ostacoli all'interno del gioco, oppure darmi dei potenziamenti all'interno del gioco, Quindi giochi dove voi stessi giocherete insieme a me e molto altro, quindi giocheremo una varietà assurda di giochi anche perché abbiamo 6 ore, quindi non mi state a chiedere cosa giocheremo perché giocheremo a tante cose E niente ragazzi, anche oggi sulla DidoFamily parleremo di che giochi giocare, alcuni dei giochi che giocheremo e niente, tutto qua, ci vediamo domani dalle 17 alle 23, questa sera ovviamente no live, ci vediamo domani, grazie a tutti, ciao ciao!